siete in compagnia di sbs italian trovate altre storie su sbs.com.u barra italian o scaricate la sbs radio app il sito di sbs è tutto nuovo se volete trovare le trascrizioni di questo e di tutti gli altri episodi andate su www.sbs.com.au barra slow italian sbs.com.au slow italian il parlamento sta considerando l'introduzione di riforme urgenti alle leggi sulla privacy del paese a seguito della fuga di dati di optus il consiglio di sicurezza dell'onu si riunirà per i danni al gasdotto di nordstrom one il parlamento sta considerando l'introduzione di riforme urgenti alle leggi sulla privacy del paese entro la fine dell'anno dopo che quasi 10 milioni di australiani si sono visti rubare i loro dettagli durante la fuga di dati di optus la Tony General Mark Dreyfuss ha dichiarato che le leggi sulla privacy non sono più adatte allo scopo nell'era digitale l'iniziativa è venuta alla luce mentre il governo è intenzionato a completare la revisione attuale delle regolamentazioni vigenti entro il 2022 Dreyfuss ha dichiarato al Network 7 che si stanno prendendo in considerazione anche multe più salate alle aziende per assicurarsi che intraprendano i passi necessari per proteggere i dati dei clienti il Queensland sarà la nuova casa la nuova casa della più grande centrale idroelettrica del mondo l'annuncio segue la promessa della premier statale Anastasia Palaszczuk di fare terminare con il suo governo la dipendenza dal carbone entro il 2035 seguendo un piano energetico decennale da 62 miliardi di dollari lo Stato punta a creare una super rete pulita di energia solare, eolica e idroelettrica Palaszczuk ha dichiarato al Network 7 che queste nuove centrali idroelettriche aiuteranno ad affrontare l'emergenza climatica del Queensland We're going to build a huge super grid which goes basically along the east coast of Queensland We're going to build two pumped hydros The pioneer valley one in western Makai will be the largest in the world and that will then mean that we'll have a huge attraction of investment in solar and wind Il Consiglio di sicurezza dell'ONU si riunirà dietro richiesta della Russia per discutere dei danni ai due gasdotti mentre l'Unione Europea ha promesso una risposta vigorosa ad ogni interruzione volontaria alle sue infrastrutture energetiche L'UE ha reso noto di sospettare dei sabotaggi dietro alle fughe di gas scoperte questa settimana nei gasdotti russi sottomarini verso l'Europa Mentre il gas continua a fuoriuscire sotto al mare Baltico per il terzo giorno dopo essere stato rilevato rimane molto incerto capire chi possa essere stato responsabile di sabotaggi ai gasdotti Nord Stream per i quali la Russia ed i partner economici europei hanno speso miliardi di dollari in costruzione Il commissario dell'UE Valdis Dombrovskis ha dichiarato che ogni interruzione volontaria dell'energia europea andrà incontro ad una risposta unita Certo che la sicurezza e l'ambiente rimane la prima priorità è chiaro che questi incidenti non sono coincidenti tutta la informazione disponibile so far sembra di indicare che è stato un'attività un'attività, un'attività che è stato creato quindi è chiaro che ogni deliberata distruzione dell'infrastruttura dell'energia energetica è completamente non accettabile e sarà accettato con una risposta robusta e un'attività Grazie a tutti Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana Scarrafoni in cucina di Ugly Ducklings of Italian Cuisine Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita